Siamo visti ieri la situazione era abbastanza normale, la nottata molti terramani hanno passato a casa senza la luce, ci sono zone di Teramo tipo Colle Atterrato che ancora non rivede la luce. Qual è la situazione prefetto? La situazione effettivamente ieri mattina era molto migliore, però le previsioni e l'allerte meteo che ci avevano già avvisato dai giorni precedenti sono avvisi che poi si sono realmente verificati. Nel senso che dalla mattinata di ieri c'è stato un rilevante aumento nevoso a cui poi si è accompagnato questo blackout della corrente elettrica, data comunque dalle fili dell'alta tensione e non della media e bassa tensione. Questo ha comportato una disalimentazione sia nella città di Teramo ma anche in tutta la provincia di Teramo e al momento infatti su circa 130.000 utenze sono ancora disalimentate 36.700, cioè diciamo che sono ancora un 30%. Teramo? Teramo è stata riattivata in parte già alle tre e mezzo di questa notte e naturalmente ci sono ancora alcune zone che devono essere riattivate. Comunque i tecnici della Terna stanno lavorando già un po' da ieri e soprattutto da stamattina alle quattro e mezzo perché ci erano ancora strade strade che bisognava quindi liberare per agevolare l'invio dei tecnici sui siti. La provincia ha chiesto lo stato di calamità? La provincia ha chiesto lo stato di calamità nell'ambito anche delle segnalazioni che abbiamo avuto perché effettivamente questo tipo di maltempo che si è verificato è un tipo di maltempo che ha colpito un po' tutto. Parlando di Teramo appunto tutta la provincia del Teramano naturalmente con effetti diversi perché verso la costa abbiamo avuto gli effetti di allagamenti. Poi l'esplosione di un metanodotto? Questo poi stamattina perché tra l'altro non bastava la luce c'è stata appunto anche un'esplosione di un metanodotto fortunatamente comunque senza feriti. Sì però ha creato problemi all'ospedale di Atri? Il problema è l'ospedale di Atri perché ci sono state una decina di persone appunto che sono state comunque accompagnate soprattutto per l'intossicazione. C'è un'abitazione che è stata dichiarata inagibile per cui anzi diciamo che l'incidente che comunque è un incidente diciamo grave poteva avere anche delle conseguenze abbastanza serie. Ma almeno su questo versante. Per quello che riguarda le persone intossicate qual è lo stato attualmente della situazione? Sono andate e non ci sono state segnalazioni di situazioni insomma di gravi danni alla salute perché insomma riteniamo tutto sommato che siano di lieve entità. Finisce qui? Bisogna vedere un po' il tempo nel senso che l'allerta per noi dura ancora meno secondo le indicazioni che sono state date. Comunque diciamo che il peggio dovrebbe essere passato nel senso che si sta andando verso almeno un miglioramento e quindi speriamo naturalmente che rientra il grado dell'emergenza.